Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. L'alta pressione pian piano torna ad espandersi verso il Mediterraneo dopo almeno due settimane di assenza. Parliamo ovviamente dell'anticiclone subtropicale che sarà nuovamente protagonista al corso della settimana con temperature molto oltre le medie del periodo, in particolare al modo al sud. Il caldo e il bel tempo torneranno ad interessare anche l'Abruzzo. Sarà un inizio di settimana molto stabile con un cielo sereno quasi ovunque. Avremo il transito di nubi alte, specie nel pomeriggio, che non porteranno particolari fenomeni. Le temperature in lieve aumento massime tra i 27 e i 29 gradi, qualche picco di 30 gradi nei settori interni a bassa quota, minime tra 15 e i 23 gradi, 20 generalmente deboli a regime di prezza. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon inizio di settimana. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.